Elia SRL, pelletteria dal 1986, sponsor ufficiale ASD Faella. Vi invita alla visione di Faella Stia. Bencivenni per il Faella, questa volta diciamo in veste di giocatore che osservava, nel senso che è squalificato dalla scorsa stagione, un inizio rivedibile, diciamo così. Sì, subito un inizio difficile, abbiamo tanto ovviamente da lavorare, si è visto, però secondo me non c'è tutto da buttare perché abbiamo disputato sicuramente un buon secondo tempo, siamo stati sicuramente meglio in campo, abbiamo regalato un tempo, un primo tempo. Sicuramente anche da verificare un po' l'amalgama, ci sono tanti giocatori nuovi in questa annata e chiaramente non tutto può andare bene fin dall'inizio. Ovviamente, ci sono tanti ragazzi nuovi, era anche preventivabile secondo me che andassimo in difficoltà nel primo tempo perché oggi era la prima partita ufficiale, non avendo disputato la Coppa, per cui ancora dobbiamo imparare a conoscersi, da prendere un po' le misure. Siamo in pieno rodaggio e secondo me però ci sono ampi margini di miglioramento. Anche perché, come già penso si sia capito l'anno scorso, in seconda categoria non è che ci sia molto da aspettare, il rodaggio non ci si può permettere per troppe giornate di campionato. No, no, assolutamente, ormai abbiamo l'esperienza dello scorso anno e dobbiamo cominciare subito a fare punti, però per arrivare a conquistare punti dobbiamo essere prima una squadra. Mister Carlo Squillantini, direi che su un esordio con vittoria in trasferta ci si può comunque mettere la firma. Sì, sicuramente sì. Chiaro, è stata una partita difficile perché abbiamo incontrato una squadra che secondo me può essere la sorpresa del campionato. Siamo partiti bene, nel primo tempo abbiamo sfruttato il fatto di aver già giocato anche due gare in Coppa Toscana, dove purtroppo siamo stati eliminati. Abbiamo fatto un primo gol di precevole fattura, però Faella ci stava già mettendo in difficoltà secondo me già alla fine del primo tempo. Poi, come sempre nell'equilibrio, l'episodio ha fatto la differenza, abbiamo trovato con Capacci quella splendida punizione, subito il gol del 2-0. E su quello il secondo tempo abbiamo costruito con difficoltà, però abbiamo costruito la vittoria difendendosi con abbastanza ordine. Comunque è un'ostia sicuramente molto aggressiva, abbiamo visto anche là davanti molto pressing anche sui difensori e portatori di palo. Sì, abbiamo fatto un buon lavoro davanti, abbiamo dei giocatori che nella zona offensiva hanno ottima qualità, però si sanno anche sacrificare bene per la squadra e di questo sono soddisfatto. Un'ostia dove vuole arrivare? Noi l'anno scorso abbiamo fatto un campionato a ridosso delle prime, anche se c'erano molte varchi, quindi il campionato non è mai esistito, però siamo andati al sesto posto. Quest'anno partiamo con l'obiettivo di provare a migliorarci, di vedere se si riesce a entrare in zona playoff, però ci sarà da battagliare forte. Luciano Moracci, dirigente del Faella, l'inizio magari non è stato dei migliori, però ci sono buone basi direi. Sì, all'inizio siamo entrati in campo con tratti, non vedevamo veramente il gioco che sappiamo fare, il primo tempo è stato a favore nettamente dell'ostia. Mentre nel secondo tempo siamo entrati in campo consapevoli delle nostre forze e siamo riusciti a tenerli sotto sempre nella sua area. Anche se nel primo tempo anche loro hanno fatto un tiro e mezzo perché il tiro di punizione è stato un tiro della domenica, cioè se si prova dieci volte non lo farà mai. Però le partite sono così. Sono contento perché c'è stata la reazione della squadra e effettivamente si potrebbe anche fare un buon campionato, credo veramente si possa fare anche un buon campionato. Perché credo che l'ostia sia una delle squadre pretendenti a passare, che è una buona squadra. Tra l'altro abbiamo visto comunque che il Faella ha delle buone individualità, sicuramente anche là davanti magari come abbiamo accennato è un po' da mettere a punto i meccanismi. Sì, c'è ancora perché praticamente partite ufficiali questa è la prima e quindi ancora i meccanismi sono ancora da trovare perché effettivamente la squadra è stata rinnovata tutta diciamo. È rimasto due o tre ragazzi dell'anno passato ma la squadra è stata tutta rinnovata e quindi credo sia stato presto ancora per creare su quei meccanismi che ci farà crescere veramente di qualità. Elia SRL, pelletteria dal 1986, sponsor ufficiale ASD Faella, vi ha presentato Faella Stia.